Su Sansevero l'avvocato Iosef Splendido, ricordiamo primo nella lista proporzionale per Lega Salvini Premier, non entriamo in polemica su quello che sta succedendo a Macerata proprio nella giornata di oggi, però confrontando i dati statistici, incontrando quelle che sono le percentuali, la Lega ha guadagnato un punto e mezzo. Sicuramente nel sud Italia è un po' più complesso. Assolutamente no, perché i problemi che la Lega sta portando avanti a livello nazionale sono i problemi anche del nostro territorio. Se parliamo di immigrazione il problema riguarda anche Foggia e Provincia, anche Labbatti, il mio collegio. Se parliamo di sicurezza riguarda l'Italia tutta, se parliamo di legge Fornero, di abolizione a legge Fornero, quindi di far andare le persone in pensione prima riguarda tutti gli italiani e così via. Bene, proprio su Sansevero, dove era partito questo tesseramento con Fanelli e Primiano Calvo, si sono create delle spaccature all'interno del partito, nel caso di specie, nel suo caso, proprio con il dottor Fanelli. Per quale motivo? Ma guardi, io sono stato soggetto passivo di questi attacchi, in realtà non ho mai risposto quando forse ne avevo diritto. Adesso che sono in campagna elettorale, la maggior ragione, sono problemi ormai che ho messo alle spalle, non mi interessano. Io sono qui nella mia terra perché forse non sapete che le mie origini sono anche di Sansevero, perché la famiglia Splendido è di Sansevero e quindi sono felice, lasciatemi godere questo giorno, non voglio fare inutili polemiche.